Le anticipazioni della puntata di Amici 22 che verrà trasmessa nel pomeriggio del 16 ottobre rivelano l'introduzione di una nuova classifica di gradimento L'ultimo classificato reagirà molto male alla notizia. Il 12 ottobre si sono svolte le registrazioni della puntata di Amici che verrà trasmessa nel pomeriggio del 16 ottobre, le anticipazioni hanno rivelato che Wax continuerà ad essere protagonista Dopo che i microfoni avevano registrato alcuni insulti rivolti a Rudy Zerbi, il professore aveva infatti chiesto ad Arisa di prendere provvedimenti punendolo Amici 22, la conduttrice Maria De Filippi, foto copyright Mediaset Una volta arrivato in cassetta, Wax ha promesso ai suoi compagni che cercherà di rimanere più calmo e controllarsi Quello che rivelano le anticipazioni della puntata del 16 ottobre di Amici, però, è che il cantante reagirà piuttosto male quando scoprirà di occupare addirittura l'ultima posizione di una nuova classifica di gradimento Amici 22, le anticipazioni della puntata del 16 ottobre al momento non è noto il funzionamento di questo nuovo tipo di classifica, ma quello che è filtrato che che piccolo giterrà a compagnia a Wax occupando il penultimo posto Secondo le anticipazioni, i cantanti di Amici avranno la fortuna di incontrare due super ospiti nel corso della puntata del 16 ottobre Uno di questi dovrebbe essere Loredana Bertè. Amici 22, Wax è finito subito al centro delle polemiche per alcuni insulti rivolti a Rudy Zerbi, foto copyright Mediaset È probabile che sarà la cantante ad ascoltare e dare i voti agli alunni, mentre Kananai sarà in studio per promuovere il nuovo singolo abissale che ha lanciato proprio il 12 ottobre, il giorno delle registrazioni Lo spoiler riguardo la sua presenza arriva proprio dal cantante arrivato ultimo a Sanremo, che si è fatto un selfie negli studi Mediaset Chi verrà eliminato fra gli alunni di ballo, la decisione di Todaro Loredana Bertè, secondo le anticipazioni, assegnerà la vittoria nella gara di cover a Nive Ndg guadagnerà la seconda posizione e l'ultimo gradino del podio spetterà invece a Federica L'ex professore Carlo Di Francesco decreterà la vittoria di Nive o nella sfida con un esterno e quindi l'allunno potrà rimanere nella scuola di Amici Il 12 ottobre il cantante Tananai si è mostrato all'ingresso degli studi di Uomini e Donne, dove registrano anche amici, foto Instagram Ci sarà anche la sfida di ballo fra Asia, la ragazza che ha imparato la danza con i video di YouTube, e Claudia La dura decisione spetterà a Raimondo Todaro che eliminerà proprio Asia dopo averla difesa più volte dagli attacchi di Alessandra Celentano Il giudice esterno Jacopo Tussi metterà invece al primo posto Ramon nella sua classifica della sfida di ballo Ecco tutte le anticipazioni di Amici News riguardo le anticipazioni della puntata registrata il 12 ottobre che andrai in onda il 16 ottobre, view disposto on Instagram a post share by Amici News Schiocciola Amici sottolineatura News